Ben trovati gentili telespettatori di Cilento Channel, quest'oggi nel telegiornale ospitiamo l'avvocato amministrativista Alfonso Esposito. Ben trovato Alfonso. Buon pomeriggio. Bene, con lui parleremo di piano di zona Salerno 8, ma prima di andare nello specifico dell'argomento è giusto spiegare che cos'è. Il piano di zona Salerno 8 è un'associazione di comuni, nel caso nostro sono 37 e si occupano dei servizi sociali di tutti i comuni che fanno parte dell'ambito. In questa organizzazione esiste un ufficio di piano con un direttore, con dei collaboratori e una serie di assistenti sociali e via dicendo. Che cosa è accaduto? È accaduto che, come sapete, in questi giorni c'è un po' di confusione perché i servizi non sono partiti, ci sono dei debiti abbastanza complessi per quanto riguarda alcune cooperative sociali che avanzano dei soldi rispetto all'ufficio di piano. Ci sono anche tanti comuni che non pagano la loro quota, quindi una serie di problemi. tra questi il problema dei collaboratori dell'ufficio di piano che prima della legge Madia avevano un contratto COCO-PRO che in realtà sono contratti continuativi coordinati. per un'attività specifica progettuale e con la nuova legge Madia praticamente questi contratti non potevano essere più attuati. Sono stati banditi. I nostri 18... Questo a far data dal primo di gennaio del 2019. Ecco, diciamolo. Ovviamente questo si sapeva da febbraio del 2018. Quindi i nostri 18 collaboratori esterni con questi contratti a un certo punto hanno avuto insomma un piccolo problema, diciamo così poi lo spieghiamo nel dettaglio, e 4 di loro hanno denunciato il piano di zona. Partiamo proprio da questo. Perfetto. Allora, proprio perché questo sta avvenendo un pochettino in tutte le dinamiche gestionali e amministrative dei piani di zona, tant'è vero che la Regione ha dato la necessità, ha imposto anche sotto il profilo delle disposizioni normative e regolamentari, di trasformare questi piani di zona in consorzio, ma anche nei confronti e soprattutto ci tengo a precisare i piani di zona oggi, così come praticamente i consorzio o comunque così come qualsiasi tipologia di ente della pubblica amministrazione, ha l'obbligo di non utilizzare più il precarato, di non procrastinare l'utilizzo di questi contratti flessibili e sostanzialmente il decreto Madia sotto questo profilo ne ha posto un limite che è appunto il 31 dicembre, era il 31 dicembre del 2018. Ovviamente in questo solco noi con questi 4 miei assistiti ci siamo, diciamo così, tra virgolette inseriti per cercare di spronare in modo in anticipo nei confronti di chi gestisce attualmente il piano di zona di valo della locale, quindi anche nei confronti e soprattutto del comune capofila, per dare corso a quello che in realtà era un qualche cosa di diritto, cioè sostanzialmente la cosiddetta famosa stabilizzazione. E che questo fosse un obbligo e che questo fosse un qualche cosa ben conosciuto non solo al comune capofila, ma soprattutto a tutti i 37 comuni, i ricompresi il comune capofila, che fanno parte del coordinamento istituzionale, quindi di questa associazione, di questa delegazione intersoggettiva di funzioni, c'è stata una delibera prima del mio intervento, la numero 3 del 27 dicembre del 2017, che andava a rafforzare proprio il decreto Madia e quella delibera che non è stata né revocata né tantomeno è stata oggetto di modifica, dava, delegava le funzioni specifiche al coordinatore istituzionale, al coordinatore e cioè al dottor Mario Iaruso, di porre in essere che il personale attualmente operante, leggo proprio testualmente per evitare che qualcuno possa creare ulteriormente confusione, di stabilire per l'effetto che al personale attualmente operante nell'ufficio di piano, nel segreterato sociale e nel servizio sociale e professionale, con contratto di lavoro flessibile, nell'emore dell'avvio delle procedure speciali di reclutamento, verranno prorogati i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile senza ricorso ad altre forme di lavoro autonomo, di dare mandato al coordinatore dell'ufficio di piano di mettere in atto con la massima celerità tutti gli adebbimenti necessari all'aduzione delle procedure speciali di reclutamento del personale del decreto 75 del 2017 per i co-co-co, come meglio esplicitata nella circolare 3 del 2017, che sarebbe poi la stessa circolare. Ad un certo punto però che cosa succede? Succede che noi siamo costretti a fare una rifida, succede che noi siamo costretti a ricorrere al TAR, succede che il piano di zona, che ha sempre detto di non avere una capacità giuridica di assumere questi operatori, però nel contempo nomina avvocati per contrastare l'esercizio di un diritto di soggetti che lavorano da circa 13-14 anni, diciamo tra virgolette, sono i cosiddetti reali fondatori del piano di zona e fino ad arrivare in Consiglio di Stato, ma per ottenere un nulla di giuridicamente dire avanti, perché alla fine sia il TAR di Salerno sia il Consiglio di Stato ha sentenziato una cosa molto semplice, ha detto sì, saranno anche valutabili le vostre osservazioni giuste, ma dovete andare davanti al giudice del lavoro. Questo che cosa implica lo stato attuale? Perché credo che la maggior parte delle organizzazioni dei comuni, e soprattutto i rappresentanti dei singoli comuni, forse sfugge questo problema. Sotto le medite spoglie del co-co-co c'era un vero e proprio contatto a tempo indeterminato. Di fatto al di là di questo si andavano soprattutto al di fuori di quello che erano gli orari, non venivano elargiti, non è stato elargito ai miei 4 assistiti il trattamento di fine rapporto lavorativo, nonostante il 31 dicembre 2018 sia passato. Non sono stati pagati le fere, non sono stati pagati gli straordinari, non sono stati pagati tutta una serie di attività accessorie. Ovviamente questo si traduce che da qui a qualche giorno ci saranno 4 ricorsi dove, essendo quasi la posizione similare che si uniforma tra i 4 mei, quindi 4 ricorsi dal giudice del lavoro con una richiesta di pari circa 120 mila euro cada uno. Ovviamente di questa situazione e di questa responsabilità di carattere contabile, seppur ci sarà una responsabilità contabile nei confronti di chi non ha voluto, non si conoscono ancora le ragioni, le ragioni mi sfuggono perché io solitamente sono abituato a valutare gli atti sotto il profilo della conformità o meno al diritto, poi se ci sono delle ragioni politiche allo Stato attuale ancora nessuno me le riesce a far capire e sostanzialmente ci saranno un importo di 400-500, credo che poi a ruta libera anche altri operatori seguiranno, che non dovrà pagare soltanto il Comune Capofila di Vallo della Lucana, ma tutti e 37, perché come si dice... Mi scusi Avvocato, proprio perché forse non esiste una forma giuridica precisa con un Presidente... Sì, perché essendo una delegazione intersoggettiva sono responsabili solidamente tutti e 37 comuni, tanto è vero che quando siamo andati su un'eccezione specifica del legale del piano di zona sono stato costretto a rimodulare l'azione e a fare 37 ricorsi, quindi questi 37 comuni avranno sicuramente letto i nostri ricorsi, ma ovviamente tutto tace. Ora io mi voglio semplicemente soffermare su una vecchia frase che diceva un grosso giurista Cardelutti, ciascun uomo libero e responsabile è proprio libero agire, se credono questi signori che la Corte dei Conti non arriverà si sbagliano, perché tutto questo è stato già segnalato alla Corte dei Conti, al di là di quello che è la Corte dei Conti è stato segnalato anche perché mi risulta che ci sono delle anomalie anche negli affidamenti delle cooperative, è stata fatta anche una dettagliata segnalazione all'ANAC, è stata fatta anche una segnalazione al Ministro Di Maio, di cui spero che al di là dei programmi possa procedere a porre in essere una chiusura di questi flussi finanziari, perché non riesco ancora a comprendere nel rendimento del Corte della Gestione come vengono utilizzate, visto che arrivano soldi, però non ci sono addirittura i soldi per gli operatori, che dovrebbero essere prima di essere garantiti, per poi utilizzarli anche per garantire gli utenti e soprattutto al Governatore De Luca. Credo che sotto questo profilo la Regione sia attivata, tanto è vero che entro sette giorni, alla luce di una serie di documentazioni che vi ho inviato alla Regione, sempre il nome per conto dei miei assistiti, entro sette giorni il coordinatore dovrà dare delle spiegazioni alla Regione in relazione a questo stallo che si è venuto a verificare. Stallo, mi consenta poi dopo le lascerò spazio rispetto a tutte le domande, stallo che configura ancora oggi un illecito amministrativo nell'illecito amministrativo, perché sono stati il 31 dicembre, con un viso pubblico, con una determina, sono stati prorogati dei co-co-co per alcune tipologie di misure, dove in effetti non si riesce a capire ancora il come e il perché tecnicamente sia ancora in vita al piano di zona di Vallo della Lucana l'esistenza dei co-co-co e dei co-co-pro e nel contempo, poiché erano state espletate delle attività di attribuzione rispetto ad una specifica misura, la misura REI, sono state oggi in servizio e contrattualizzate, sempre con il metodo del co-co-co, soggetti che fino all'altro giorno non facevano parte del piano di zona, che dovrebbero espletare la loro attività, la loro funzione specifica per la misura REI, per 5 euro a settimana, ma che di fatto vengono gestite per sopperire a tutti questi operatori che dalla sera alla mattina sono usciti fuori, ma era tecnicamente un qualche cosa che si sapeva già, ma assolutamente ognuno è stato silenzio e nel silenzio tecnicamente si è data la cessazione di una serie di risorse che potevano essere utilizzate, che potevano continuare ad espletare quei servizi fondamentali, perché io credo che, diceva qualcuno, Cristo si è fermato a Deboli, io credo che al comune di Vallo della Lucà o anche forse nei 37 comuni non si è ancora ben compreso quale dovrebbe essere la funzione del piano di zona, qui mi fermo perché è chiaro che se non ci sono utenti che in questo momento non hanno creato problematiche, se non ci sono soggetti, ma lei mi stava dicendo poc'anzi, che ci sono delle cooperative che devono avere dei soldi e quant'altro, io credo che in uno Stato democratico civile dove i servizi sociali sono paricati di carattere prettamente essenziale in relazione alla natura della materia che trattano, credo che ci sarebbe stata, secondo me da parte di tutte e 37 comuni, non voglio dire tutte e 37, ma credo che il 70-80% di un'insurrezione, spostando la gestione di questo piano di zona forse o da qualche altra parte oppure dando corso a quello che fosse una cessione, ma questo non tocca a me, sarà praticamente forse la gestione politica che in seguito con ulteriori provvedimenti dell'autorità giudiziaria non potrà che prendere atto di un totale fallimento perché gli atti che sono stati posti in essere sono, devo dire la verità, in nulla di giuridicamente rilevante. Ecco, proprio per evitare malfunzionamenti del piano di zona e per migliorare i servizi, la Regione Campania sta spingendo tanti piani di zona affinché si trasformassero in consorsi, secondo lei perché il piano di zona Salerno 8 nel momento in cui mi diceva c'è stato anche un coordinamento dell'ufficio di piano affinché questo potesse essere messo in atto non è accaduto? Allora, perché qui bisognerebbe passare da un livello inferiore ad un livello superiore, sicuramente allo stato attuale chi sottoscrive, chi firma gli atti, chi può essere la gestione di carattere ordinare e individuabile del coordinatore, ma sicuramente a monte c'è una responsabilità di carattere politico, è la politica che gestisce qualche cosa e come tutte le cose all'italiano, quando vanno in mano tecnicamente alla politica, alla fine si sa come si inizia ma non si sa come si finisce. Io credo che purtroppo qui si è toccato il fondo e credo che al di là di qualche comune virtuoso che allo stato attuale sta lanciando il pericolo e sta cercando, diciamo così, di arginare questa situazione assurda, atipica che si è venuta a verificare, non è un problema di configurazione del piano di zona perché il piano di zona di se per sé esiste, è un ente, anche se non è un nuovo ente giuridico perché lo viene dall'articolo 2 del testo unico degli enti locali, di fatti ha una capacità gestionale, assunzionale, ha una capacità autonoma, poi ovviamente questo sarà oggetto di verifica da parte della Corte dei Conti dove è arrivata una denuncia dettagliata rispetto a come si impostavano i bilanci, rispetto a come si gestiva la cosa pubblica tenendo ben presente che le poste di bilancio dovrebbero essere differenziate dal comune capofila rispetto a quello che è il comune capofila quando agisce autonomamente rispetto a quando agisce come comune capofila del piano di zona. Il problema è che questa domanda probabilmente la dovrebbe fare sia ai vari rappresentanti della politica, diciamo tecnicamente locale, ma anche di quella regionale, perché no, fino ad arrivare ai livelli superiore perché qui i flussi finanziari a me risultano che arrivino, però non si riesce a capire il motivo per il quale ci sia questo forte deficit economico. Il fatto che ci siano dei comuni morosi rispetto ai loro quotidi di partecipazione, questo è un fatto fisiologico che si verifica in tutte le varie attività o tipologie di associazione. Ora è chiaro che la regione ha preso atto di questa necessità di creare a monte una struttura un po' più sotto il profilo amministrativo pesante, anche per avere una facile individuazione delle responsabilità e una facile individuazione di quello che è la capacità gestionare di questi flussi finanziari, tecnicamente impone anche attraverso una legislazione, devo essere onesta e di carattere primale, la trasformazione del piano di zona in consorzio e devo essere onesto, anche nella provincia di Sereno ci sono dei piani di zona originari che oggi si sono già formalizzati in consorzio e in modo virtuoso hanno dato corso a quello che è il procedimento di stabilizzazione. Qui non si tratta di stabilire se ci deve essere una stabilizzazione di carattere diretto o di carattere indiretta. I miei assistiti, parlo per quanto riguarda i miei assistiti, i miei quattro assistiti hanno sostenuto regolatamente delle prove pubbliche, degli avvisi, delle selezioni pubbliche, quindi avrebbero tutti i requisiti per poter avere una stabilizzazione diretta. Ovviamente, probabilmente, si è gestita non in modo oculato quello che doveva essere un allarme dato da parte nostra per tempo, e cioè stiamo parlando di aprile-giugno del 2018, ma era lo stesso coordinamento istituzionale che ne aveva dato l'allarme con la proposta di delibera numero 3 del 27 dicembre del 2017 e sostanzialmente io ho ancora una domanda da fare, il motivo per il quale non si è dato corso a una convocazione di un coordinamento istituzionale dove i sindaci liberamente si potessero assumere la loro responsabilità. Ripeto, probabilmente sto invadendo un campo che non è mio, però tecnicamente credo che nei momenti in cui si tratta di persone che hanno lavorato 14-15 anni, si tratta di persone che hanno messo nelle mie mani la loro vita e non si può giocare con queste persone che comunque hanno famiglie, hanno mutui, hanno una vita di carattere normale, hanno speso una vita facendo grossi sacrifici, anche spostandosi sul territorio con le difficoltà che ci sono quando un qualsiasi soggetto si deve spostare sul territorio per recarsi praticamente al lavoro e oggi si trovano con un niente. È assurdo perché da un lato si sta facendo scappare via delle risorse che potevano essere utilizzate a servizio del territorio e dall'altro lato si stanno creando dei risali, dei riservizi e credo che prima o poi qualcuno di tutta questa gestione presenterà il conto. Prossima mossa, Avvocato, quale sarà? Sarà il deposito, al di là del fatto che credo che da qui a un momento ci saranno delle interrogazioni da alcuni parlamentari nei confronti del Ministro e al di là del fatto che tecnicamente si è proceduto già a segnalare il tutto alla Procura Generale della Corte dei Conti di Napoli, al governatore, ma questo praticamente è risaputo perché al governatore della regione campana, perché il direttore regionale ha inviato una PEC al coordinatore chiedendo spiegazioni entro e non oltre sette giorni, al di là del fatto che c'è una sigla sindacale di cui non faccio nome ma che c'è molto vicina e che ha chiesto un'agitazione con l'intervento del Prefetto, perché in realtà speculare sulla vita e sul lavoro e soprattutto sulle competenze professionali di persone che hanno maturate dopo tanti anni, dopo tanti sacrifici, la prossima mossa sarà quella di bussare al giudice del lavoro di Vallo della Lucania e successivamente probabilmente noi stiamo in attesa di alcuni atti che devono porre in essere perché ci devono rispondere per forza e poi probabilmente ci rivolgeremo anche alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Bene, grazie dunque all'avvocato amministrativista Alfonso Esposito, io devo soltanto dire che ahimè purtroppo al di là dei nostri collaboratori del piano di zona, ad averne la peggio saranno le persone meno abili, che non vedranno, soprattutto adesso che entreranno a regime le nuove disposizioni normative, le nuove misure che il governo ha predisposto, tipo per esempio il reddito di cittadinanza, io voglio proprio vedere dove credo che il piano di zona avrà la sua necessaria partecipazione, voglio proprio vedere come si riuscirà a gestire una cosa di questo genere e sono contento che poco tempo fa il Ministro Di Maio ad una domanda specifica ha detto chi sbaglierà qui la Guardia di Finanza farà pagare, sia a chi come funzionare lo sbaglia e sia a chi magari non ha titolo cerca di prendere delle elargizioni contributive che in realtà sono non dovute. Bene, grazie a lei e noi continueremo a seguire la vicenda del piano di zona Salerno 8.